In questa lezione affrontiamo la differenza che c'è tra persona fisica e persona giuridica, non dal punto di vista legale con tutte le definizioni che ci interessano. Cerchiamo di capire una differenza netta. Le persone fisiche sono gli individui. Io sono una persona fisica, tu sei una persona fisica. La persona giuridica, invece, è un soggetto che è creato dalla legge. Noi come persone fisiche siamo titolari di obblighi, siamo titolari di crediti, siamo titolari di debiti. Molto semplicemente, io devo a te qualcosa, tu devi a me qualcosa, io sono tuo debitore, tu sei mio debitore, e viceversa creditore a reciprocamento. E noi come persone fisiche possiamo intestarci dei contratti. La persona giuridica, invece, è un soggetto che può avere dei contratti intestati, può essere creditore, può essere debitore. Si chiama in legge, è centro di imputazione di obbligazioni, diritti e doveri. Però è creato. Come si creano le società? Si creano per atto pubblico. Quindi si va dal notaio e si creano le società. Le società, SNC, SAS, SRL, sono persone giuridiche. Sono soggetti di diritto creati dal sistema giuridico. E questi soggetti di diritto, immaginiamo che questo è un soggetto di diritto, può essere il titolare dei contratti, può essere il titolare o il creditore o il debitore di qualsiasi rapporto. Essere persona giuridica non vuol dire avere anche personalità giuridica. E questa è la grandissima differenza che c'è tra le società di persone e le società di capitali. Ne abbiamo già parlato nelle precedenti lezioni. La differenza principale tra società di persone e società di capitali è la responsabilità patrimoniale, che è imperfetta nelle società di persone e perfetta nelle società di capitali. Che cosa si intende per responsabilità patrimoniale imperfetta? Significa che è vero che la società è una persona giuridica, che è titolare di propri obblighi e propri doveri, però ha un patrimonio distinto, però i soci della società di persone, della SNC e gli accomandatari della SAS, rispondono in solido con la società. Se la società non paga, paga il socio. Autonomia patrimoniale imperfetta. Invece autonomia patrimoniale perfetta, quindi meno rischi, SRL, dove l'SRL ha un suo patrimonio e il socio risponde solamente per i soldi che dentro l'SRL è ammesso. Noi come individui siamo persone fisiche, le società create mediante l'atto pubblico sono persone giuridiche, quindi soggetti che hanno un loro codice fiscale, noi abbiamo il nostro codice fiscale alforumerico, i soggetti giuridici hanno un codice fiscale solo numerico, che a volte coincide con la partita IVA ma non sempre, quasi nella totalità dei casi. e hanno i loro obblighi, i loro doveri, possono essere intestati da ridi contratti e così via. Cioè, se io intesto la bolletta della luce alla mia società, caro Alberto Micheli SNC, è caro Alberto Micheli SNC, che è titolare del contratto dell'energia, non io come persona fisica. Se invece ho una ditta individuale, dove la personalità giuridica non esiste, in quel caso è intestato a me, che è la stessa cosa con la mia persona. Questo era un punto da chiarire. Ovviamente le persone fisiche, come dicevo nella lezione precedente, hanno il loro regime fiscale, le persone giuridiche hanno il loro regime fiscale e il loro regime contabile. Più semplice per le società di persone, che hanno meno obblighi e meno doveri, per forza che hanno meno obblighi e meno doveri, rispondi in solido, a livello tuo personale rispondi sempre, per i danni causati dalla società o anche dall'altro socio, perché ha utilizzato il nome della società in un'altra maniera. Mentre le persone giuridiche hanno più obblighi, hanno più responsabilità, hanno più adempimenti amministrativi. Perché? Perché hanno il patrimonio destinato, perché non rispondono i soci con la loro persona e quindi la responsabilità patrimoniale si paga. Questo è il concetto. Spero che ti sia piaciuto questo video e sono qui per dirti che questo video fa parte di un percorso formativo totalmente gratuito e disponibile qui su YouTube. Quindi, se non sei partito dall'inizio, ti invito a visionare la playlist, partire dall'inizio per scoprire insieme come aumentare il fatturato, dimezzare le tasse, diventare un imprenditore migliore. Ciao e a presto! Ciao! Grazie a tutti.